Lascerei la parola al Presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Bene, vi ringrazio di essere venuti a quest'ora. Io provo a parlare forte, però la giornata è stata di uso intenso delle corde vocali e quelle non le posso cambiare. Comunque abbiamo ritenuto giusto ripristinare un'usanza che c'era stata in anni molto lontani che prevede, dopo impegni di questo tipo che hanno un risultato plurimo che desta un forte interesse nell'opinione pubblica e quindi in voi che la dovete informare, di fare una conferenza stampa nella quale spieghiamo quello che abbiamo fatto. Cosa che secondo me è sempre utile, dopo decisioni importanti o meno importanti, spiegare. Ciò, vi dirò la verità, è tanto più importante ora quando le campagne informative che precedono decisioni come queste sul referendum avvengono all'insegna di parole che poi possono risultare determinanti nell'interpretare quello che è accaduto. ci arriverò tra un minuto, ma nella sorpresa e anche amarezza che ha destato in molti la decisione di ieri, ha giocato un ruolo determinante l'uso che è stato generalizzato, se alza la mano o chi non ha usato questo termine, io sono pronto a offrirgli due fustini di Dixan, referendum sull'eutanasia. Perché il referendum sull'eutanasia desta nelle persone che leggono o che ascoltano la legittima aspettativa, che si tratti di un referendum che ha ad oggetto le persone che stanno soffrendo, che sono malate, che sono magari incurabili, quelle di cui questa Corte si è occupata a prendo sulla depenalizzazione del suicidio assistito nella decisione sul suicidio assistito. Quindi il referendum su che cos'era? era sulle persone come quelle che, a differenza di quelle del suicidio assistito, non sono in grado di fare da soli l'ultima mossa. E che è giusto dire che è inammissibile che si trovi il modo di occuparsi di loro. No, è spaventosamente ingiusto. Peccato che il referendum non fosse sull'eutanasia, ma fosse sull'omicidio del consenziente. E che arrivare ad un voto che, aspettandosi che sia sull'eutanasia, poi legittima l'omicidio del consenziente, finisce per legittimare l'omicidio del consenziente ben al di là, ben al di là dei casi per i quali ci si aspetta che l'eutanasia possa aver luogo. Tutti i casi nei quali una persona che non è malata, che non è terminale, che non è in condizioni di sofferenza, intellerabili per altre ragioni. Decide di porre fine alla sua esistenza, dà un consenso affidabile e credibile e trova qualcuno che sulla base di quel consenso provvede a farne un'iniezione letale. Casi che stanno del tutto al di fuori della relazione medica, della legge sulla sedazione, del mondo come anche i promotori lo hanno da noi definito, nel mondo eutanasico. E devo dire che loro si sono sforzati di sostenere che alla fin fine quello a cui si poteva poi arrivare era di ammetterlo per quei casi. Sì, ma non solo per quelli. E comunque sono casi totalmente diversi. Altro è lavorare sul malato terminale. Io vi dico una cosa che non potrei dire. Ma chi lo sa che presentandoci la questione non sotto forma di quesito referendario, ma di questione di legittimità costituzionale del 579 com'è, non sarebbe possibile trattarlo come abbiamo trattato il 580, il suicidio assistito. Non lo so. Ma certo, questa Corte, il suicidio assistito, a determinate condizioni, lo ha depenalizzato. E vi confesso che leggere o sentire che chi ha preso la decisione che abbiamo preso ieri, non sa che cos'è la sofferenza, mi ha ferito, ha ferito tutti noi e ci ha ferito ingiustamente. Ma non è colpa vostra. È la parola eutanasia che ha portato tutto questo. Il referendum era sull'omicidio del consenziente e l'omicidio del consenziente sarebbe stato lecito in casi ben più numerosi di quelli e ben diversi da quelli dell'eutanasia. A questo punto qualcuno ha scritto, secondo me giustamente, insomma se lo veda un po' il Parlamento questo problema già che c'è. Questo tema delle parole fuorvianti che poi mi ha indotto anche a trovarmi qui oggi ce lo ritroviamo in parte addosso anche sui tre referendum, non su tutti e tre, ma su uno dei tre referendum sui quali la decisione è arrivata oggi pomeriggio e sui quali io faccio la parte del comunicato a questo punto perché abbiamo finito pochi minuti fa, noi abbiamo dichiarato ammissibile il referendum sulle funzioni da riconoscere ai consigli giudiziari nella loro composizione completa anche con i laici. sapete che il quesito qui riguarda il fatto che la componente laica dei consigli giudiziari e del consiglio della Cassazione oggi si esprime con diritto di voto su tutte le questioni che riguardano l'assetto e l'organizzazione, ma sulle questioni che riguardano la condizione dei singoli giudici del distretto hanno al più il diritto di tribuna come si dice, il quesito dice abbiano le prerogative che hanno i componenti giudici, non ci sia differenza. Il quesito è ammissibile. Questo ovviamente non significa che quella deve essere la soluzione. Noi sappiamo che il governo sta lavorando, c'è un maxiemendamento su tutte queste questioni che prevede la partecipazione ma senza il diritto di voto. A questo punto il problema non ci riguarda più. Noi ci siamo limitati a dire che il quesito è ammissibile, non ci sono ostacoli costituzionali a che il corpo elettorale se ne occupi. Poi vota sì, vota no, il governo ne tiene. La nostra parte qua finisce. Abbiamo invece dichiarato inammissibile il referendum sulla responsabilità diretta dei magistrati perché essendo fondamentalmente, poi c'è una motivazione più articolata, ma fondamentalmente essendo sempre stata la regola per i magistrati, quella della responsabilità indiretta, si cita lo Stato e poi c'è la rivalza sul magistrato, la introduzione della responsabilità diretta rende il referendum più che abrogativo, innovativo. Perché non è che questo è un caso di abrogazione che fa sì che tolto quel pezzetto lì si riespande automaticamente una norma più generale che c'era? Perché qui stiamo parlando della responsabilità dei magistrati per i quali la regola, diversamente che per altri funzionari pubblici, ma questo è un dato di fatto e di diritto per i magistrati, la regola era sempre stata quella della responsabilità indiretta. Ci sono poi altri aspetti minori che attengono alla chiarezza del quesito, eccetera. Infine abbiamo dichiarato inammissibile il referendum, io dico, sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis. Qui c'è una parziale analogia con quello che vi dicevo prima a proposito dell'eutanasia. Vi basti dire che il quesito è articolato in tre sottoquisiti e il primo sottoquisito, quello relativo all'articolo 73,1 della legge sulla droga, prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3. E le sostanze stupefacenti delle tabelle 1 e 3 non includono neppure la cannabis, che è nella tabella 2, ma includono il papavero, coca, le folle, insomma includono le cosiddette droghe pesanti. Già questo è sufficiente a farci violare obblighi internazionali plurimi che abbiamo e che sono un limite indiscutibile dei referendum. B, questo è un fatto specifico qua, ci portano a constatare la inidoneità rispetto allo stesso scopo perseguito, quale che esso sia, perché il quesito non tocca altre disposizioni che rimangono in piedi e che continuano a prevedere la rilevanza penale di queste stesse condotte. Quindi c'è violazione di obblighi internazionali e inidoneità allo scopo, nel referendum sulle sostanze stupefacenti. Io in questa parte mia avrei finito. Colleghi, se ci sono delle domande, per favore, scusate se io non riconosco tutti quanti e non vi conosco, darei la parola al collega, credo sia di Radio Radicale, però mi ricordo. Prego? Sì, se prendi il microfono. Ecco, l'ho acceso. Allora, buonasera signor Presidente. Dunque, io le volevo chiedere questo. Ci sono stati dei, diciamo, criteri di innovazione rispetto alla decisione che avete preso, per esempio su alcuni referendum. Io alludo a quello sulla separazione delle carriere, sulla quale la Corte Costituzionale, credo già nel 1995, si era pronunciata. Poi, in merito all'eutanasia, le volevo chiedere questo. Avete tenuto conto della sentenza del 24 ottobre del 2018 che riguardava l'invito al Parlamento a legiferare su questo punto, invito che è rimasto del tutto disatteso. La ringrazio, Presidente. Ma, senta, questa è la separazione delle funzioni. Non abbiamo usato criteri innovativi di nessun genere. Questo referendum, lo sottolineo, chiedeva, questo è un altro caso eventualmente, se ne parla come la separazione delle carriere. In realtà la carriera, secondo questo referendum, non viene toccata. La carriera rimane unica, soltanto che il passaggio da una funzione all'altra sarebbe a regime quello che, il passaggio, la scelta della funzione è quella che fai all'inizio, in realtà. E quindi, in effetti, il quesito si colloca in una scia di legislazione che nel tempo ha sempre più ristretto, riducendole nel tempo e nelle possibilità i passaggi. e quindi era ammessibile rispetto ai criteri. Noi criteri non li abbiamo, proprio abbiamo mantenuto quelli esistenti, cercando di usarli nel modo più semplice. Ma, appunto, la questione del Parlamento che non interviene su queste cose, induce alla ricerca di strumenti per risolverle, è una di quelle che abbiamo più presenti, che io personalmente ho manifestato come tema primario fin da quando ho assunto questa funzione pochi giorni fa. Ma non è che, capisce, noi possiamo, visto che il Parlamento non lo fa, facciamolo noi. Io non ho nulla in contrario al tentare di farlo se abbiamo gli strumenti per farlo, ma se il quesito referendario, che è volto in buona fede a risolvere il problema dell'eutanasia, mi apre un'area di impunità che include casi molto diversi da quelli che ho visto oggi sui giornali e che fanno soffrire me come fanno soffrire lei, delle persone che... Ma come può essere giusto che se io sono in grado di fare l'ultima mossa e mettermi la pasticca sulla lingua, io sono coperto ed è coperto chi mi dà la pasticca, mentre se io non sono in grado di darmi la pasticca sono one million dollar baby, ci vuole Clint Eastwood che mi fa l'iniezione. Sono casi da risolvere per bacco, ma con questo quesito io avrei aperto e probabilmente avrei avuto un sacco di sì, perché tutti avrebbero pensato soltanto alle persone che sono in stato di sofferenza e poi avremmo avuto gli altri casi e ne saremmo stati tutti responsabili. Il primo ragazzo maggiorenne che per una ragione qualunque arriva a decidere che la vuole fare finita e che trova un altro ragazzo come lui che in una sera in cui hanno un po' bevuto glielo fa. Siamo tutti responsabili di questo. Allora a questo punto è meglio proprio che il Parlamento. Il modello, siamo d'accordo con i promotori di questo referendum, lo hanno detto loro, va benissimo il modello del 580, del suicidio assistito, quelle condizioni, ma qui a questo punto ci vuole una legge per porle. Ci vuole una legge. Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Buonasera. C'erano tante cose, ma io ne chiedo due. Una è proprio sulla separazione delle funzioni, perché lei giustamente ha fatto riferimento alle parole, però gli stessi promotori ieri pomeriggio qui sotto parlavano di separazione delle carriere. Allora non vi siete posti il problema, se poi questo quesito ce l'ha, del fatto che scegliendo una volta solo all'inizio si realizza di fatto una separazione delle carriere che forse pone problemi di costituzionalità. e poi l'altra cosa, che tipo di decisioni sono state? Se sono state all'unanimità o invece ci sono stati voti contrari, se lei ha dovuto faticare un po' anche a non far trovare il pelo nell'uovo? No, vabbè, erano tutti avvertiti, hanno frequentato tutti i corsi di diritto costituzionale e quindi sapevano e sanno tutti che cercare il pelo nell'uovo non è fare una scelta politica, ma fare una scelta giuridicamente non consentita in presenza di un istituto previsto dalla Costituzione. Non mi pare che nessuno ne abbia cercato di peli nell'uovo. Nei limiti del possibile, finché esistono gli interna corporis, io li tutelo, poi domani leggerò sui giornali, come ho letto oggi, su un giornale che… Soprattutto per evitare questo. Ecco, le dirò che mi faccia ricordare. Io ho seguito questa tecnica facevo parlare tutti, tenendo il Presidente per ultimo, verificavo le opinioni e poi concludevo dicendo mi pare che ci sia un orientamento prevalente o un orientamento unanime per. Non è capitato che nessuno mi abbia chiesto, ma votiamo per essere sicuri. Non è mai capitato. Quindi, se dovessi dire, violandogli interna corporis, questa l'abbiamo presa 8 a 7, quest'altra 5 a 9, no, non è stata un'operazione, come si fa al Consiglio europeo, di consensus fondamentalmente. Non è mai stato necessario votare. però, ecco, in alcuni casi ho constatato orientamento unanime, in altri casi ho constatato orientamento prevalente. Va beh, insomma, sono 15 cristiani e non è detto che la pensino tutti allo stesso modo, ugualmente, insomma, no? Oh, quello che dice, no, vede, perché quando si parla di carriera si parla del come si entra, come sono regolati gli avanzamenti, qual è l'organo che decide sugli avanzamenti e sugli spostamenti e tutto questo rimane comunque comune e quindi la carriera è la stessa in realtà, insomma. Poi, non è detto che in alcuni limitati casi ci possa essere il cambio delle funzioni in ragione di inderogabili esigenze di copertura, no? A volte, lo sappiamo, ci sono quei trasferimenti che sono determinati da vuoti e il fatto che la carriera sia... insomma, questo è tutto da vedere, è tutto da capire, ma non ho dubbi sul fatto che qui la carriera è la stessa perché tutte le discipline che riguardano dall'ingresso fino alla fine, ai movimenti, ai provvedimenti disciplinari, eccetera, rimangono regolati allo stesso modo. Lui ha alzato la mano, il collega del Foglio, di cui non ricordo il nome, se per favore... Simone Canettieri del Foglio, buonasera, Presidente. Senta, le cito proprio un'intervista che fece al nostro giornale nel 2015 in cui diceva che esiste solo una variante possibile in base alla quale le forze antisistema potrebbero tentare di essere delle realtà credibili e non più incredibili, mettersi la cravatta. quindi le chiedo diciamo giocando un po' su questa metafora no appunto ma per la politica investire appunto sui referendum in questo momento proprio mettersi la cravatta oppure no visto perché lei prima ha fatto anche diciamo un accenno sull'uso di parole un po' sbagliate forse è una semplificazione adesso cosa si attende appunto dai partiti del Parlamento? intanto devo dare atto del fatto che la mia idea da allora del mettersi la cravatta la devo abbandonare perché quando ero ragazzo io serviva molto credo che in questa intervista l'avevo detto perché l'uomo senza cravatta o faceva il regista o faceva l'attore quindi io riuscivo con facilità a capire forse neanche il vostro mestiere era diffusissima la cravatta comunque si identificava un po' poi è diventata impossibile la distinzione io lo dissi a chi mi intervistava avevo un professore all'università a Pisa era il professore di diritto internazionale che ci cacciava via se non avevamo la cravatta in classe pensi lei il punto non è questo il punto è quello che toccavo l'altro giorno nella prima conferenza stampa che ho fatto che io capisco che i conflitti valoriali sono i più difficili da comporre ma stanno diventando tra i più importanti nella nostra società quelli su cui ci dividiamo e quelli su cui è importante avere una piattaforma comune di intesa allora il nostro Parlamento sarà che è troppo occupato dalle questioni economiche di un tipo e di un altro ma forse non dedica abbastanza tempo a cercare di trovare la soluzione ecco io mi arrabbia se qualcuno dice questi parlamentari non fanno nulla non è vero cioè lavorano hanno grosse difficoltà a mettersi d'accordo su questi temi ma insomma quando facemmo la 200 che ci sbagliamo sempre la 219 del 17 o la 217 del 19 la legge con la sedazione profonda eccetera quella che nacque dal caso di Erwana quella legge inizialmente sembrava impossibile si erano bloccati completamente ma poi ci ritornarono ci fu un lavoro di gruppi che mettevano insieme persone di culture di idee anche di fedi diverse e si riuscì a creare questa piattaforma è fondamentale che in Parlamento capiscano che se questi temi escono dal loro ordine del giorno questi temi possono alimentare di sensi che poi sono davvero corrosivi del tessuto comune di cui la coesione sociale ha bisogno ecco di questo di questo dobbiamo essere consapevoli insomma Francesco Grignetti del quotidiano La Stampa Presidente a proposito del referendum quello che avete di grado inammissibile sulle sostanze stupefacenti ma se non ci fosse stato questo clamoroso errore che ha reso inidoneo perché contraddittorio e anche l'ha reso in contrasto con gli obblighi internazionali quindi se non ci fosse stato questo clamoroso errore nel primo dei sotto quesiti poteva essere ammesso? Se lei mi sta chiedendo se un quesito il quale dice la coltivazione della cannabis a scopo personale rudimentale e non commerciale fatta addirittura sul terrazzino ha da essere legittima o deve essere punita io non non mi pronuncerei mai per la inammissibilità di un quesito del genere il paradosso di questo un po' che circonda questo quesito è che non è legge ma è sezioni unite della Cassazione che interpretando l'articolo 73 e seguenti ha già ritenuto che sia fuori dalla punibilità penale la coltivazione rudimentale ad uso personale eccetera quindi c'è un po' questo paradosso ma se il quesito venisse fosse stato presentato in questi termini riferito alla cannabis e all'uso personale della medesima un quesito più che ammissibile non ho dubbi sì Claudia Fusani di Scalignosi salve presidente grazie grazie soprattutto per essere qui a spiegare io cerco di essere sintetica e ci provo allora è vero che qui siamo alla corte e non siamo in Parlamento prima cosa e questo è un dato oggettivo diciamo è anche vero che tutti i temi che sono stati portati con questi con questi sei quesiti anzi sei più due quesiti sono temi molto sentiti tra tutti noi ci sono state molte firme sono temi veri sono temi sentiti sia quelli della giustizia magari qualcuno sulla giustizia poteva essere anche magari qualcosa in più però quello per esempio sulla responsabilità dei giudici è un tema molto sentito perché lei sa benissimo qual è il livello di casi di ingiustizia in questo paese così come molto sentito quello sul fine vita sulla buona morte come la vogliamo chiamare 579 o 580 la domanda è questa io ho capito che questi quesiti non sono stati scritti bene e quindi in qualche modo però mi sembra anche di capire che voi avete trovato un po' questo famoso come dire pelo nell'uovo non potevate interpretare e dare poi ovviamente tutti noi dovremmo leggere quali motivazioni ci sono detto ma non potevate invece che dire non ammissibile è ammissibile se o ammissibile se fosse stato possibile io l'avrei fatto ma le pare che una corte che ha fatto una sentenza direi abbastanza innovativa per il suicidio assistito quindi la norma diceva chiunque assiste un altro con qualunque mezzo poi era una norma generalissima è punito eccetera eccetera e noi lì avendo in mano gli strumenti che abbiamo nel giudizio di legittimità costituzionale abbiamo detto che era incostituzionale per la parte in cui includeva nella punizione penale anche il caso di chi eccetera 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 e venne e veniva fuori il caso di Fabo nel giudicare dell'ammissibilità di un referendum questo non lo possiamo fare noi non possiamo cambiare il quesito il quesito è quello e noi dobbiamo valutare se quel quesito ha caratteristiche che lo rendono contrario alla costituzione il che significa o tutti lo sanno che non soltanto che non rientra nelle materie di cui all'articolo 75 ma che non lascia scoperti scoperti valori e diritti costituzionali irrinunciabili dico scoperti e qui davanti a questo ci siamo trovati nella situazione di chiederci ma domani quando il risultato era quello e noi non lo potevamo cambiare oggi quell'articolo dice chiunque uccide persona consenziente è punito con la pena da 5 a 15 anni è punito come nell'omicidio normale se il fatto è commesso a danno di un minore di una persona incapace di esprimere il consenso e un terzo caso simile venivano tagliate le righe di mezzo e la norma diventava l'omicidio del consenziente è punito se il fatto è commesso ai danni di un minore verso persona incapace di esprimere il consenso quindi in tutti gli altri casi non era più penalmente punibile e in materia penale non si può andare per analogia io vedevo quello che avevamo fatto sull'articolo dopo e avrei voluto trasferirlo qua ma non potevo non potevo proprio io potevo dire così com'è io non lo tocco non lo posso toccare e questo è il risultato e questo è il risultato ecco questo questo è il punto l'altro quello sulle sostanze stupefacenti forse un pezzo è diviso in tre un pezzo magari era meno contrario degli altri due ma io non posso toccare il quesito se il quesito è diviso in tre sotto quesiti io questo treno io non lo posso toccare e allora se il primo vagone già da solo deraglia si porta dietro gli altri due questo bisogna anche tenerne conto sì Giulia Merlo del quotidiano il domani sì buonasera presidente io torno all'inizio della sua conferenza stampa in cui lei ha spiegato la volontà innovativa della della corte di reintrodurre qualche cosa che nella prassi non si era fatto negli ultimi anni e quindi di spiegare come lei ci sta facendo le ragioni di una decisione io le volevo chiederle le ragioni di questa scelta e se si può parlare di una volontà anche innovativa della corte di parlare anche con gli altri organi costituzionalmente rilevanti le prima citava il parlamento anche attraverso diciamo strumenti che non siano solo le sentenze grazie quello di parlare spiegando quello che facciamo lo considero e l'ho sempre considerato un dovere della corte anche quando non lo ha esercitato e mi è capitato a volte di rimproverare amichevolmente giudici o presidenti della corte miei amici nel corso della mia lunga vita che dicevo te parli di troppe cose che con la corte non hanno a che fare se tu parlassi un po' di più a spiegare le sentenze della corte sarebbe meglio ecco e quindi io vorrei che accadesse questo che si parlasse per spiegare perché serve appunto serve perché io insomma ho fatto tanti mestieri ho vissuto anche nei giornali lo so che uno che si trova a dover commentare formare l'opinione dei suoi lettori o dei suoi ascoltatori su fatti se non li conosce bene e poi non li spiega bene ma uno mica può sapere tutto a questo mondo insomma quindi occasioni nelle quali ci si spiega quello che si fa appunto io lo trovo giustissimo lei ha toccato un punto importante sul quale il nostro problema è principalmente il rapporto col governo col Parlamento chiedo scusa c'è anche un problema di rapporto col governo che però nel corso degli anni abbiamo molto smussato quando la corte adottava decisioni senza troppo preoccuparsi delle conseguenze che esse avevano sulla spesa dello Stato allargando benefici eccetera appunto io l'ho anche raccontato io mi son trovato ministro del tesoro a venire in questo palazzo forse era la prima volta che c'entravo e dire al presidente guardi che l'articolo 81 vale anche per voi non vale soltanto per noi e non ci potete scaricare addosso e questo implica una collaborazione col governo in qualche modo se ci sono decisioni in pentola che possono comportare un aumento di spesa insomma c'è un rapporto da tenere col governo ma questo è un problema che è pressoché finito perché la corte si è molto autodisciplinata e adotta decisioni che provocano spesa solo quando lo ritiene irrinunciabile quando ci è capitato di trovare queste pensioni per persone invalide a neanche la metà della soglia di povertà le abbiamo dichiarate illegittime e abbiamo detto i soldi li devi trovare toglili da qualche altra parte ma questa è una assoluta priorità e credo che abbiamo fatto bene la collaborazione col Parlamento appunto a mio avviso deve trovare delle forme anche procedure diverse dal monito cosiddetto che noi mettiamo nella nostra decisione perché è evidente che questa non basta in fondo noi non possiamo essere coinvolti nell'attività legislativa esorbiteremmo dai nostri compiti e non dobbiamo esorbitare però avere un rapporto che si esprime anche lì attraverso occasioni in cui ci si incontra in cui si segnala quali sono le cose più importanti fatte da noi che evocano una decisione parlamentare in cui ci si spiega voce anche perché non è detto che la sentenza che può non essere sufficientemente chiara a voi sia invece chiarissima a chi sta in Parlamento non è detto insomma ne è detto che noi siamo così chiari che non abbiamo bisogno di dare spiegazioni perché le spiegazioni possono essere necessarie anche perché noi non siamo stati sufficientemente chiari quindi questo è un tema e in qualche modo lo ha posto ora il presidente del comitato per la legislazione onorevole ceccanti alla camera che proprio oggi o ieri mi ha fatto avere per farla conoscere ai giudici la sua relazione sulla legislazione nella quale tocca anche questo tema devo dire che non l'ho ancora letta perché mi è arrivata ieri e io leggevo solo queste carte in questi due giorni però c'è una sensibilità anche dall'altra parte che è molto positiva Andrea Fabozzi del Banifesto a parte questa volevo fare una domanda sul referendum sull'ultimo referendum quello dichiarato inammissibile sulla cannabis a parte questa cosa che lei ci ha spiegato adesso dell'errore di tabelle che mi sembra veramente clamorosa ci sono dei passaggi nella formazione del quesito penso a quelli in Cassazione che prevedono anche un'interlocuzione con il comitato promotore evidentemente qualcosa non deve non aver funzionato bene magari in quei passaggi lì se si è arrivati con un errore così clamoroso qui ma io volevo chiederle questo perché lei ha detto avremmo violato obblighi internazionali plurimici si farebbe violare plurimi obblighi internazionali riferito alla cannabis ecco invece uno dei quesiti ammessi quello che cancella completamente la cosiddetta legge severino il decreto legislativo anticorruzione è in adempimento di un disegno di legge delega quello appunto a che sta a monte che comincia con un riferimento agli obblighi delle Nazioni Unite e va avanti con tutta una sequenza di obblighi internazionali che diciamo in funzione dei quali l'Italia si è dotata di quella legislazione anticorruzione come mai diciamo quello che non è valso per quel referendum valeva invece per quel referendum no no attento se prova a dire che abbiamo usato due pesi e due misure no no domandavo non è così no le spiego domando lei risponde qui perché è stata toccata il comma 1 è stato toccato per togliere il coltiva senza tener conto che poi valeva coltiva non è più però effettivamente c'è un errore come mai il comitato possa averlo fatto forse una spiegazione c'è e non so se la Cassazione era in condizione di rilevarlo non non entro in quel lato lì della questione perché in realtà se lei ricorda alcuni anni fa venne introdotta una nuova disciplina della droga 2006 nella legge di conversione di un decreto legge giovanardi e altri che la corte costituzionale dichiarò illegittima perché era una normativa intrusa eccetera eccetera questo ha riportato in vigore dato che quella abrogazione fatta da quella legge era come non mai avvenuta dato che venne dichiarata illegittima proprio per estraneità riportò in vigore le tabelle della disciplina precedente io non vorrei ma questa è una mia pura ipotesi che chi ha scritto il quesito si sia basato sulle tabelle che poi accompagnavano la legge giovanardi questo è possibile però non lo so francamente perché questo è accaduto ma insomma se vuole ce lo quale carte glielo faccio leggere proprio il 73 primo comma dice che è punito chi coltiva produce diffonde le sostanze di cui ha le tabelle 1 e 3 va a leggere le tabelle e si accorge che sono le tabelle delle droghe pesanti mentre la cannabis è nella tabella 2 gli obblighi internazionali a cui faceva capo il complesso delle discipline che noi abbiamo l'Italia ha adottato dopo quella legge delega ne ha fatte tantissime perché c'era questo decreto delegato sulla incandidabilità c'era la creazione dell'autorità anticorruzione c'era la disciplina del whistleblower cioè la tutela di chi dall'interno degli apparati c'era tutta una serie di discipline che riguardavano la pubblica amministrazione e il controllo della corruzione dentro gli apparati amministrativi gli obblighi internazionali gravavano su questo la incandidabilità come tale non rispondeva ad obblighi internazionali e quindi noi non ce li siamo trovati davanti nel valutare ripeto il nostro perché poi sembra che noi facciamo di più insomma non è detto che una volta che noi abbiamo detto è ammissibile allora dobbiamo votare sì noi abbiamo dichiarato ammissibile un quesito poi è il corpo elettorale che deve decidere se a questo punto preferisce che siano candidabili tutti quelli che in base alla Severino sono incandidabili o se vuole mantenere le cose come stanno io dico non ho ragioni costituzionali tenga conto che la Severino noi le abbiamo dichiarate più volte conformi alla Costituzione e non c'è stato passaggio davanti a noi di queste norme senza che noi dicessimo no costituzionalmente va bene ma non posso però dire onestamente perché a ciascuno il suo mestiere che sono costituzionalmente dovute queste norme non lo posso dire e allora se così come Costituzione prevede un comitato promotore o dei consigli regionali dicono vogliamo che il corpo elettorale si esprima su questo io dico si esprima poi vediamo che succede scusate sì allora ti puoi presentare tu e poi devo dare la parola a una collega che è collegata da Ramona buonasera presidente alberto sofia fattocodiano.it due questioni innanzitutto la prima domanda la faccio se è possibile anche all'uomo oltre se non al presidente le chiedo secondo lei come possono sentirsi in relazione all'eutanasia tutte quel milione e 240 mila persone che hanno firmato che hanno visto il Parlamento per tanto tempo non legiferare nonostante i vostri inviti tutti quei malati che stanno aspettando le chiedo se non c'è secondo lei non si alimenta uno scollamento con i cittadini con questa decisione se non si crea un ulteriore gap la seconda questione invece più tecnica le chiedo considerando che il governo non si è costituito e che la norma di fatto non è a contenuto costituzionalmente necessario dato che altrimenti la corte non avrebbe potuto emettere la sentenza nemmeno nel caso Cappato Fabbo le chiedo perché siete di fatto entrati nel merito a questo punto io ho cercato di spiegare prima ora se lei con la sua televisione ha un minuto nel quale esaurisce la mia risposta io posso sparare con qualche difficoltà una risposta retorica ma io ho già spiegato che queste persone si sono orientate a favore di questo referendum pensando che fosse un referendum che riguardava coloro che soffrono mentre è un referendum che apre l'immunità penale a chiunque uccide qualcun altro col consenso di questo qualcun altro che sia persona che soffre o no questo è ingiusto qualunque di quel milione di persone lo riterrebbe ingiusto occorre dimensionare il tema dell'eutanasia sulle persone alle quali questa nozione giustamente si applica coloro che soffrono come quelli per i quali abbiamo ammesso il suicidio assistito questo noi sulla base del quesito referendario non lo potevamo fare forse con altri strumenti chissà di sicuro lo può fare il Parlamento punto allora adesso il governo non si è costituito su nessuno dei referendum ma questo non significa assolutamente nulla per me il governo non è una parte necessaria per me sui quesiti poteva presentarsi per sostenerne l'ammessibilità come per sostenerne l'inammessibilità ha fatto la scelta generale di rimanere fuori ne ho preso atto allora Valentina Stella collegata da remoto del riformista salve buonasera e anche del dubbio volevo chiedere una considerazione al presidente in merito a quanto ha dichiarato Marco Cappato stamattina Marco Cappato è il tesorire dell'associazione Luca Coscione che in merito al quesito sull'omicidio del consenziente ha detto in due ore hanno liquidato la nostra iniziativa volevano sbrigarsela anche prima bastava guardare le facce dei relatori il giudice costituzionale Modugno ha sbagliato in distrito tutto il tempo alle argomentazioni degli avvocati e ha compito che il giudice Amato è una personalità molto politica e questa è una decisione politica non ho capito le ultime parole che lei ha detto è colpa non sua ma della connessione provi a parlare le ultime parole ha detto il giudice Amato è una personalità molto politica e questa è una decisione politica insomma io non non so che facce stesse facendo il professor Modugno io so che insomma da parte di Cappato mi sia consentito dirlo che deve la giusta soluzione giusta soluzione nel processo che ha avuto per il caso del DJ Fabo anche non solo ma anche alla sentenza di questa corte sul suicidio assistito dire che questa corte fosse maldisposta significa dire una cattiveria che si poteva anche risparmiare in un momento in cui per lui era più opportuno riflettere su cosa stava facendo parlando di eutanasia quando si trattava di omicidio del consenziente la decisione è stata una decisione presa sulla base di criteri che sono assolutamente quelli previsti dalla Costituzione io sono e lui questo dovrebbe saperlo perché mi conosce da anni assai meno politico di lui la parola Luciano Gelfi del Tg1 Tg2 buonasera presidente vorrei chiederle se sulla base dell'esperienza di questa complessa discussione che avete fatto lei si sente di potere affermare che c'è la necessità di qualche correttivo nel procedimento una idea di riforma del procedimento di ammissione dei referendum ad esempio un vaglio in corso d'opera a metà della raccolta di firme della costituzionalità dei quesiti per non ingenerare quelle aspettative che poi si sono generate e su cui lei è stato tanto critico all'inizio grazie le dirò che non ci ho riflettuto molto su questo è una proposta che è stata fatta più volte far intervenire la corte prima e qui si sono contrapposte in passato le due tesi evitare di impegnare la corte troppo presto quando magari poi non si sa ancora neanche se le firme saranno raggiunte o no oppure impegnare i comitati a raccoglierle e poi beccarsi la fregatura che gli viene detto che non era ammessibile visto che ci stiamo riflettendo insieme forse entrambi per la prima volta ora io vedrei con meno favore i dubbi sull'anticipazione perché da quando io dico giustamente è stata ammessa la raccolta delle firme elettroniche insomma se parte un referendum è presumibile che arrivi perché le difficoltà che si sono sempre incontrate per raccogliere 500.000 firme ora sono molto molto diminuite e forse si può far intervenire la corte prima insomma sì prima che le persone che hanno firmato abbiano delle aspettative io le dirò io vedo con favore tutto quello che permette di allargare questi istituti però non c'è dubbio che la raccolta delle firme ai gazebo implica un contatto attraverso il quale chi firma si impadronisce di ciò per cui sta firmando perché parla con quelli che stanno al gazebo magari gli fa una domanda ho dei dubbi mi spieghi meglio mentre la firma elettronica è un po' quella cosa che tutti consideriamo tutto ciò che elettronico arricchisce la democrazia però non è detto perché porta a decidere senza dialogo porta a decidere su ciò che ciascuno già sa sui suoi giudizi ma anche sui suoi pregiudizi e quindi quella fase dialogica che è così importante nei processi anche partecipativi un po' viene meno ma insomma detto questo a latere non c'è dubbio che se poi la raccolta viene prevalentemente per via informatica allora farlo prima potrebbe incontrare meno obiezioni di quelle che incontrava un tempo mi pare che non ci siano delle altre domande se è così io vi ringrazio grazie a tutti quanti di essere venuti e buonasera grazie signori grazie a tutti grazie a tutti